Direi che le operazioni di abito all'anno scolastico per noi sono in piena regola. Non ci saranno grossi problemi. La rassicurazione sulla riapertura delle scuole arriva dal direttore dell'ufficio scolastico regionale Antonella Tozza, intervenuta alla conferenza stampa promossa dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, per fare il punto della situazione a due settimane dalla prima campanella fissata il 24 settembre. Qualora ci siano casi Covid non possiamo rimanere neanche un attimo senza prendere provvedimenti. Sappiamo tutti qual è il protocollo. Il protocollo prevede che il referente Covid al cui viene segnalato un sospetto lo accompagni ovviamente in una stanza che i dirigenti scolastici stanno individuando alla cosiddetta stanza Covid, chiami i genitori e poi i genitori avviseranno l'ASL con tutto il percorso e sarà l'ASL a decidere qual è il percorso da intraprendere, quali sono le misure necessarie da adottare. Anche sul fronte dei docenti e del personale ATA, il direttore regionale abruzzese lancia un segnale rassicurante. Abbiamo ricevuto ulteriori fondi per 34 milioni di euro, dice, per l'organico aggiuntivo e per incarichi temporanei per docenti e personale ATA. Per la riapertura delle scuole inoltre ci saranno 93.000 mascherine per 450 scuole ed un totale di 86.300 alunni delle primarie e secondarie di primo grado, cioè di elementari e medie. Le mascherine chirurgiche, certificate e lavabili almeno 20 volte, saranno distribuite dai volontari della protezione civile regionale. Le mascherine sono state prodotte dal brand Alessina Mask e hanno avuto un costo totale di circa 340.000 euro. L'altra notizia di giornata, che non riguarda direttamente la riapertura delle scuole, ma che coinvolge l'intero sistema sanitario regionale per quanto riguarda l'emergenza Covid, è l'ok al piano Covid da parte del Ministero. L'Abruzzo, dunque, è una delle tre regioni italiane ad essersi vista approvare la rete ospedaliera Covid senza rilievi da parte degli organismi ministeriali. Quando si tratta di approvare il piano Covid, che veramente è stato un lavoro fatto sull'esperienza, sul capire dove andavano aumentati i posti letti di terapia intensiva e subintensiva, risultiamo ad essere tra le prime tre regioni. Presidente, se mi permette, io voglio elencare quali sono le altre due, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Quindi forse un primato ce l'abbiamo. Siamo tra le prime tre regioni ad aver avuto un piano approvato.